Una manifestazione importante, quella organizzata dalla Prologo Campora San Giovanni, relativa a quello che è l'evento dedicato alla Cipolla Rossa di Calabria, un evento importante che vuole sempre di più qualificare questo prodotto autoctono, un prodotto riconosciuto, un prodotto apprezzato in tutta Italia. Come UMPLI provinciale non potevamo non sostenere, affiancare questa iniziativa, questa idea di valorizzare sempre di più questo prodotto autoctono e lo facciamo con grande senso di responsabilità ma anche con un appiglio verso una programmazione sempre più complessa, più aperta, ma una programmazione che mira al turismo rurale, alla ruralità, all'importanza dei partenariati pubblico privati ma anche a quello che deve essere una maggiore conoscenza dei prodotti tipici legandoli appunto a quelle che sono le bellezze monumentali e le risorse che in ogni territorio insistono. Quella di oggi appunto è una giornata che apre questo festival dedicato appunto alla cipolla, un festival che mette in risalto quelle che sono le proprietà di questo prodotto ma anche quelle che dovranno essere gli impegni futuri e anche un arricchimento nelle prossime programmazioni. Il plauso come ovviamente consueto è indirizzato alla Proloco Cambora San Giovanni, a tutto il direttivo, al Presidente Antonio Isabella nonché è il mio Vice Presidente Provinciale, è un territorio che risponde ad un territorio che attende queste iniziative, a un territorio che ha una grandissima potenzialità, una straordinaria ricchezza legata appunto ai prodotti e ai beni monumentali e qui l'Umbli sta intervenendo proprio per censire quelli che sono i punti di forza, i punti dove ovviamente intervenire, dove programmare e progettare. Questo intervento lo si fa con grande qualità, con grande competenza ma lo si fa ecco evidenziando che il turismo abbraccia una serie di asset strategici così come l'asset dedicato all'agroalimentare, all'enogastronomia e ai prodotti che sicuramente possono determinare una maggiore crescita ma anche destagionalizzare quello che è il fenomeno turistico. Viviamo ecco un turismo in evoluzione che continua a cambiare, turisti che rappresentano una percentuale straniera ma anche turisti che apprezzano sempre di più, come dicevo poc'anzi, quelli che sono i prodotti autentici, l'autenticità di un territorio, i prodotti autoctoni e quella che è anche il patrimonio immateriale. Lo ribadisco in più interventi, lo ribadisco in più appuntamenti, quella che è anche una grande azione sinergica proprio per far conoscere e far apprezzare quelli che sono gli usi, i costumi e le tradizioni. Unito ovviamente al prodotto autoctono rappresenta un pacchetto importante ma un pacchetto che può avere un appeal, può avere un fattore attrattivo sicuramente necessario ma un fattore attrattivo che può far raggiungere e far venire tanti turisti e visitatori proprio in queste aree in questa parte del Tirreno Cosentino che sicuramente ha tantissimi punti importanti ma mettendoli, intersecandoli tra di loro possono determinare una sempre di più maggiore crescita turistica ma anche visite oltre il periodo balneare. Questo è l'impegno, questa è un'azione predominante ma anche un'azione che si configura in quell'indirizzo determinati dai gruppi di azione locale e dai cosiddetti Galli. I Galli oggi hanno sicuramente un'azione importantissima e dove l'UMPLI coniuga questa programmazione anche in seno a quelli che sono gli spunti, gli interventi in seno al Consiglio di amministrazione questo lo si fa veramente perché oggi le Proloco sono degli incubatori di idee ma anche perché le Proloco hanno un background importante e hanno quell'esperienza e quella conoscenza del territorio, dei territori strategica e che sicuramente può determinare quello che è il futuro sviluppo il futuro piano del turismo sostenibile dove lo stesso ente UMPLI ha indicato alcuni interventi da inserire ricordo brevemente quello che è stato anche l'impegno di inserire in una programmazione regionale quelle che sono le fortezze presenti su questa costa quindi le torri di avvistamento che poi ovviamente dietro alle torri di avvistamento e ai castelli c'è comunque una storia da far conoscere sempre di più da raccontare secondo quella che è una linea anche di narrazione, raccontare la storia, raccontare i personaggi illustri raccontare quella che è la vitalità di ogni territorio e di ogni comunità